Max, te l'ho detto mille volte, guarda che polverina che stai facendo, te la stai innalando tutte i polmoni, si rovinano. Quando fai questo tipo di lavorazione, flessibile, levigatrice che sia, devi usare la mascherina. Appena è finito te la togli e si dà fastidio, ma mentre usi questa attrezzatura la devi usare. Bene. Grazie.